Sono le 19, in Piazza Brassi sta svolgendo l'incontro tra i candidati sindaco a Verona. Poco distante, nei giardini della piazza, si accende una lite furiosa. Sono in molti, non si capisce bene cosa stia succedendo. A testimoniare il tafferuglio di ieri, un taglio importante sul collo di uno dei partecipanti alla zuffa. A causare la ferita, probabilmente la caduta sullo spigolo di una panchina, dalla quale sbuccava un pezzo di ferro. In evidente stato di ebrezza, le quattro persone arrestate, tutte di nazionalità rumena, hanno tra i 40 e i 25 anni e sono state accusate di lesioni personali gravissime e rissa gravata. L'episodio ha subito scatenato la polemica politica tra i candidati, che non hanno perso tempo e si sono espressi in merito alla sicurezza nel centro storico veronese. Intanto abbiamo chiesto a chi invece dovrà votare il prossimo 11 giugno. Una rissa nel cuore di Verona è grave. Da quando c'è questa amministrazione mi pare che le cose siano peggiorate di molto. Per essere più sicuri bisognerebbe togliere le scorte ai nostri politici. Se togliere le scorte ai nostri politici, loro ci penserebbero un pochettino di più alla salute di tutti, visto che sarebbero la nostra altezza.